2-2 al città di Arezzo tra Arezzo calcio femminile e Azzalea e Solbiatese. Al decimo invece ingenuità in area per le aretine, l'arbitro assegna il calcio di rigore, ma Valgimigli ipnotizza la nera-azzurra Ambrosetti neutralizzando il tiro dagli 11 metri. Razzolini, bene imbeccata in passaggio in profondità, anticipa troppo il tiro e lo strozza, il pallone finisce a lato. Ma si fa perdonare al 26esimo ed è fredda davanti al portiere per l'1-0. Il contropiede dell'Azzalea e Solbiatese che con Vizchi al 34esimo segna il gol del pareggio e rimette il risultato in parità. Al 45esimo l'Azzalea passa in vantaggio con un calcio di punizione magistrale della Lombarda Crestan. Tiro di tuteri dagli sviluppi del calcio di punizione, il portiere tocca la palla sulla traversa e arriva Pasquali che mette in rete, ma l'arbitro dichiara fuori gioco. Espulsa Razzolini per protesta al 31esimo dopo un fallo ingiustamente negato all'attaccante Amaranto. Al 41esimo Ceccarelli si invola grazie a un ottimo passaggio filtrante davanti al portiere, trova il pallonetto. La palla esce per un soffio. Al 47esimo a tempo scaduto, calcio di rigore conquistato da Zelli che viene atterrata al limite dell'area. Paganini segna il pareggio. Io credo più che difficile, è una partita veramente complessa, loro sono stati veramente bravi. Una squadra che sa giocare a calcio, una squadra aggressiva, una squadra che ha veramente qualità importanti in tutti i reparti. Giocatori che hanno passo, hanno aggressività, hanno gambo, hanno tecnica. Veramente è una squadra che mi ha impressionato sotto tanti aspetti. Le partite partono in una maniera e ne finiscono in un'altra. Se guardiamo il secondo tempo ritroviamo la squadra che siamo e la qualità del palleggio che abbiamo sempre avuto. È normale che poi le partite sono anche una conseguenza di quello che sono gli avversari. Non è che uno pensa di giocare da solo. Gli avversari ci sono e quando gli avversari hanno qualità, hanno aggressività e sono organizzati tatticamente a volte rimane anche difficile mettere in pratica tutte le cose che vogliamo fare. Però penso che nei 90 minuti l'Arezzo abbia avuto due volti, però se devo prendere per buono quello che è stato il secondo tempo sono convinto che ci sia stata una grande prestazione. Sappiamo che il campionato è di un ottimo livello. Le avversarie ci hanno messo veramente in difficoltà dal primo all'ultimo minuto, hanno aggredito e ci hanno aggredito su tutti i palloni. Aver la ripresa in estremis è segno comunque che la squadra non molla, che ha carattere e che ha fatto di tutto per pareggiare davanti al pubblico di casa. Quindi vediamo la positiva. Bisogna allenarsi, bisogna allenarsi bene fra settimana. Venire al campo con la voglia di migliorare, allenamento dopo allenamento. E poi la domenica è il frutto di quello che succede durante la settimana, quindi dando di più fra settimana si ottiene anche di più la domenica quando si gioca.